Un convegno sul deficit cognitivo che è un problema piuttosto sentito nella nostra regione? Certamente sappiamo che Genova e la Liguria ha un alto tasso di anziani, questo perché non è una città vecchia, ma è una città dove ci sono tante persone che durante il loro percorso di carriera decidono poi, finito questo, di venire a vivere proprio nella nostra Liguria perché si sa che ci sono le condizioni ottimali, soltanto che poi naturalmente magari con l'età che avanza effettivamente si iniziano ad avere determinati tipi di problemi cognitivi e oggi vogliamo proprio dimostrare che con la prevenzione già da piccoli, avendo per esempio uno stile di vita sano, con la giusta alimentazione e anche con il giusto sport, cioè il giusto movimento, diciamo così, si può prevenire il declino cognitivo. Questo è un argomento importantissimo, questa problematica coinvolge tutta la famiglia, quindi dal bambino ai nonni, tutto il ciclo della vita. Purtroppo l'Alzheimer colpisce anche persone più giovani, sempre di più, infatti stiamo studiando un convegno che porterà poi a un progetto proprio col coinvolgimento dei bambini nelle scuole che sappiano riconoscere nei genitori o nei nonni i primi sintomi di quello che è l'Alzheimer e possano così rivolgersi e trovare aiuto e quindi si può intervenire nei modi giusti e nei tempi giusti. Poi certo è una situazione che piano piano, visto che è degenerativa, va a incidere su quelle che sono proprio le funzioni di una famiglia. Allora noi dobbiamo pensare anche a dei supporti proprio alla famiglia, le politiche sociali pensano e studiano a questo, in particolare con l'Agenzia della Famiglia. Dieci, quindici anni fa ci ritrovavamo a valutare i pazienti, ma si faceva poco il discorso della prevenzione. La prevenzione è importante in tutti i campi, soprattutto nella sanità e non solo, quindi discorso stili di vita, attenzione, sono estremamente importanti perché possono ridurre il rischio. Mi fa piacere che il presidente attuale della società italiana di neurologia, il professor Padovani, recentemente ha fatto una specie di decalogo su quello che si può fare per ridurre il rischio di sviluppare la demenza, che comprende sostanzialmente attività fisica, attenzione all'alimentazione, mantenersi stimolati. Io dico sempre, lo dirò anche oggi, che il cervello non deve andare in pensione, perché il cervello è il nostro computer, quindi se si compromette, si compromette anche tutto il resto dell'organismo. Quindi è importante cominciare a pensare, e lo rivedo anche ai giovani, perché se un giovane comincia ad avere uno stile di vita sano, è il problema della longevity, cioè il problema di stare bene, non solo di vivere a lungo, ma di vivere bene. E questo bisogna impararlo sin da piccoli. È estremamente importante questo aspetto. Grazie.